Domenica si torna finalmente in campo con un programma completo, discorso che vale anche per la Fidelis. Le protagoniste del campionato di Serie D lo faranno seguendo un nuovo protocollo sanitario specifico proprio per il principale torneo dilettantistico, ma le preoccupazioni dei presidenti per il futuro non sono state spazzate totalmente. Andiamo ugualmente avanti, però abbiamo già richiesto più volte che ci sia un sostegno maggiore da parte del governo. Credo che la Lega stia facendo quello che deve fare, speriamo che qualche cosa si possa muovere a breve, anche perché i costi sono notevoli, a differenza delle entrate che non ci sono in buona sostanza, perché tutti i ricavi del botteghino sono annullati, sono azzerati e ovviamente le sponsorizzazioni soffrono di questo momento. Tra l'altro l'ho detto 10.000 volte e lo ridico anche questa volta, lamento e denuncio anche la mancata attuazione del decreto relativo al credito d'imposta di cui aveva parlato il ministro Spadafora. Nonostante le difficoltà del momento, la Fidelis non è rimasta a guardare nei primi giorni dedicati al mercato invernale e dopo Risto Gogoschi, centrocampista bulgaro di 27 anni proveniente dal Molfetta, ha piazzato il colpo ad effetto assicurandosi le prestazioni di Federico Cerone, trequartista di grande esperienza, specialista dei calci piazzati nel primo segmento di questo campionato, ha giocato a Brindisi e poi... Non faremo mai il passo più lungo della gamba, quindi sicuramente abbiamo messo in piedi, abbiamo definito degli accorgimenti, degli interventi che oserei dire chirurgici sulla composizione del team, della squadra, da fare in questo mercato non più dicembrino perché a noi è diventato trimestrale, quindi visto che finisce il 26 febbraio. Stiamo intervenendo laddove sono anche previste delle uscite, quindi non c'è nulla di particolarmente diciamo, cioè non andiamo oltre il possibile. Torno domenica dunque anche il campionato della Fidelis riprende dalla settima giornata della trasferta contro la Versa da una campana ad un'altra dunque, dalla Putiolana sconfitta 3-0 al Degli Ulivi il primo novembre alla compagine normanna che domenica scorsa ha giocato poco più di mezz'ora contro il Fasano prima della sospensione per impraticabilità del campo, mentre la settimana precedente ha parigiato in casa contro il Nardò.